Il Taranto sfodera una prestazione da incorniciare, nonostante le difficoltà della gara supera nettamente la Juve Stabia. Il 2-0 finale per il Rosso Blu è anche frutto delle scelte di Capuano, il quale alle assenze di partenza deve rinunciare anche ai calciatori che si perdono strada facendo, costretto a cambiare in corsa per gli infortuni di Ferrara e Labriola che hanno alzato bandiera bianca. Prosegue a vista d'occhio il processo di crescita della squadra Rosso Blu. Nel primo tempo fa tutto il Taranto senza però creare grosse occasioni. Al diciottesimo c'è un traversone dalla sinistra di De Maria, il colpo di testa di Infantino è neutralizzato dall'estremo difensore Barosi. Nella ripresa entrano Lamonica e Rajcevic e la gara si tinge di rosso-blu. Al diciannovesimo c'è una conclusione di Michele Guida dal limite dell'area di rigore, pallone di poco al lato. L'episodio che cambia la gara al trentaquattresimo quando Peluso atterra Lamonica, entrato da poco in area di rigore. Calcio di rigore, cartellino rosso per il difensore giallo-blu. Sul dischetto si porta Antonio Romano che porta il Taranto in vantaggio e sigla la sua prima rete in maglia ionica. Al quarantesimo il Taranto potrebbe già raddoppiare su un colpo di testa di Evangelisti in seguito ad un calcio di punizione battuto da Mazza sul trequarti. Prodigioso l'intervento dell'estremo difensore delle Vespe Barosi. Il gol del raddoppio però è rinviato soltanto di un minuto quando Rajcevic innesca Lamonica che da poco è entrato in area. Lascia partire un gan destro che batte l'estremo difensore stabiese per il 2-0 che sarà il punteggio finale. Il Taranto sale a quota nove punti in classifica dopo otto giornate di campionato. Grazie 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 Grazie